Nel corso delle parole pronunciate domenica scorsa dallo studio del Palazzo Apostolico, Francesco ha rivolto il suo pensiero alla Polonia, dove nella giornata di lunedì 10 settembre a Markowa sono stati beatificati i martiri Giuseppe e Vittoria Ulma con i loro sette figli bambini. Per aver dato rifugio da alcuni ebrei perseguitati, questa famiglia polacca è stata sterminata dagli occupanti nazisti il 24 marzo 1944. All'odio e alla violenza che caratterizzarono quel tempo, essi oppossero l'amore evangelico. Questa famiglia polacca, che rappresentò un raggio di luce nell'oscurità della seconda guerra mondiale, sia per noi tutti un modello da imitare nello stancio del bene, nel servizio di chi è nel bisogno. Partendo dalla seconda guerra mondiale e seguendo l'esempio della famiglia Ulma, il Papa ha spostato lo sguardo verso i conflitti contemporanei, esprimendo ancora una volta un pensiero per la martoriata ucraina, mentre ha indicato le numerose bandiere di questo paese presenti in piazza San Pietro. Sentiamoci chiamati opporre alla forza delle armi quella della carità, alla retorica della violenza tenaccia della preghiera. Facciamolo soprattutto per tanti paesi che soffrono a causa della guerra. E qui penso in modo speciale intensifichiamo la preghiera per la martorata ucraina. Ci sono le bandiere lì di Ucraina che sta soffrendo tanto, tanto.